Musica Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo il nostro notiziere parlando dell'inaugurazione del nuovo posto di polizia presso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, l'ufficio di polizia ubicato al piano terra nei presti proprio del pronto soccorso del presidio, un servizio utile al fine di prevenire e eventualmente reprimere reati contro cose o persone e in particolare a tutela e sicurezza del personale sanitario. Vediamo come è andata in questo servizio. Un presidio di sicurezza e legalità direttamente all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele è stato inaugurato questa mattina il posto di polizia collegato con le centrali delle forze dell'ordine e l'esigenza si è posta anche come deterrente a episodi di violenza che troppo spesso si verificano nel nosocomio di Caposoprano a danno soprattutto di medici e operatori. Sarà però un primo presidio anche per raccogliere eventuali notizie di reato. Il servizio sarà garantito con almeno due unità di polizia nella fascia oraria che va dalle 8 alle 20. A tagliare il nastro oggi il neoquestore Agnello. Io ritengo che sia un collante non solo con la direzione sanitaria e soprattutto con la direzione del pronto soccorso ma anche con le altre forze di polizia presenti sul territorio. Non a caso oggi vedete qua ci sono diversi colori di uniformi perché dobbiamo essere collaborativi. Ecco la presenza di un poliziotto al pronto soccorso significa anche chiamare nel caso di necessità l'intervento delle pattuglie sul territorio. Quindi recupereremo in termini di tempo e sicuramente anche in termini di approccio con l'utenza da parte dei sanitari e del personale infermieristico. Un posto di polizia utile a fungere non solo da deterrente per chi intende essere violento ma anche a garantire sicurezza agli operatori come hanno sottolineato il primario del pronto soccorso Gaetano Orlando e il commissario dell'ASPA Alessandro Caltagirone. Questo presidio ospedaliero dentro il pronto soccorso in aiuto e in avvicinanza anche per un problema emotivo per quanto riguarda gli operatori che lavorano al pronto soccorso che tante volte gente giustamente per i loro motivi stanno male, vanno in agitazione, vanno in escandescenza e questo presidio serve per far sì di calmare, calmerare un pochino in una situazione e per farci sentire a noi operatori più sicuri. Il Ministero ha deciso e noi abbiamo raccolto questa iniziativa facendo vedere una presenza dei posti di polizia all'interno delle strutture sanitarie e quindi anche provando a rasserenare il personale del pronto soccorso in maniera tale che sappia che ci sia una sicurezza in più proprio a chilometro zero. Caltagirone ha approfittato dell'occasione anche per annunciare l'apertura prossima del pronto soccorso infettivologico e l'inizio dei lavori di ampliamento del reparto di emergenza ordinaria. Oggi sto approfittando dell'occasione anche per discutere questo con gli operatori sanitari anche per l'utilizzo immediato di questi locali che sono pronti, stiamo provando a vedere se rispetto a una data presunta di apertura che è intorno alla metà di giugno, sto provando a verificare se possiamo aprire anche prima. Anche il sindaco Lucio Greco ha partecipato al taglio del nastro del nuovo posto di polizia consapevole che da ASP servono fatti concreti per rafforzare l'ospedale e il sistema sanitario cittadino. È una giornata che salutiamo positivamente come amministrazione ma devo dire come comunità locale tutta. Ci auguriamo pure che a questo importante segnale di oggi possano eseguire anche risposte dal punto di vista della sanità ad iniziare dall'inaugurazione del nuovo pronto soccorso infettivologico e la ripresa dei lavori di ristrutturazione, di riqualificazione e di ambiamento del pronto soccorso di Gela che chiaramente è una risposta che la comunità si attende. Oltre al servizio svolto dagli agenti della Polizia di Stato sarà assicurato anche quello notturno attraverso un servizio di guardiania privata in collegamento con la sala operativa del commissariato. Lunedì 29 maggio sarà inaugurato il posto di pulizia dell'ospedale su Orcicilia Basarocco di Niscemi e a seguire martedì 30 maggio quello presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Gli agricoltori locali la scorsa settimana hanno avviato la protesta per chiedere condizioni adeguate per portare avanti le loro produzioni. Manca l'acqua delle dighe e quella che c'è viene sversata in mare. Vediamo. Gli agricoltori del territorio la scorsa settimana hanno iniziato una protesta che giunge al culmine di disservizi continui a mancare soprattutto l'acqua. Le precipitazioni inattese di questo periodo non hanno risolto la situazione, anzi l'ondata di maltempo ha determinato danni in diverse zone. Mentre la protesta in atto a Disueri l'acqua continua ad essere sversata da giorni, il copione è sempre lo stesso. Sotto gli occhi di agricoltori che fanno fatica ad andare avanti l'acqua della diga finisce in mare. Ragioni di sicurezza sono sempre state poste come elemento principale che induce a scaricare l'acqua. Nei campi invece non arriva Gaetano Gentile dell'Associazione Santa Maria, che era gruppo operatori del settore sia di Niscemi che di Gela, continua a denunciare pubblicamente non solo l'acqua che viene scaricata ma anche le condotte non rispondono alle esigenze. Da due mesi circa c'è una rottura in un tratto di condotta a Grotticelli e nessuno interviene, lo spiega proprio Gentile. Gli agricoltori si sentono abbandonati. L'appello va a tutte le istituzioni, a partire da quelle nazionali. A seguito della protesta della scorsa settimana, come spiega proprio Gentile, qualche deputato si è fatto sentire ma serve molto di più. Ci vogliono i fatti, secondo gli agricoltori. Da Disueri l'acqua va in mare, a Cimia invece è quasi irrazionata. Nell'invaso di comunelli infine sono tanti problemi strutturali. L'estate sta iniziando a farsi sentire. Per gli agricoltori del territorio si prospettano mesi di passione tra disservizi cronici e risposte istituzionali che mancano. Neanche il consorzio di bonifiche, in grado di dare seguito alle richieste degli utenti, poco personale e mezzi carenti, non favoriscono in nessun modo un percorso virtuoso. Secondo lo stesso Gentile, pagare la quota che viene versata al consorzio non ha alcun senso, visto che non ci sono poi i servizi annessi. Il comparto agricolo locale ha necessità di un sostegno vero che ad oggi non c'è mai stato. Il settore dovrebbe essere quello trainante per un'economia locale che sta scontando gli effetti della riconversione industriale, invece nelle campagne che ancora assicurano occupazione, andare avanti e comunque un vero terno allotto. La cronaca, rifiuti speciali, soprattutto materiali di risulta dei cantieri edili, ma anche ferro e carcasse di auto pare venissero stoccati in un'area privata, in città, per poi essere dati alle fiamme. I PM dalla Procura hanno chiuso le indagini nei confronti di un sessantenne risultato proprietario delle aree sottoposte a controlli e di un cittadino romeno 42enne. Secondo le contestazioni sarebbe stato quest'ultimo a incendiare i rifiuti che venivano accatassati nei terreni. Gli accertamenti vennero condotti lo scorso anno. Dopo la chiusura delle indagini potrebbe arrivare adesso la richiesta di giudizio per entrambi. Ancora la cronaca. Un 29enne avrebbe imposto un rapporto sessuale a una 23enne con ritardo cognitivo. È accusato di violenza sessuale. Per lui la richiesta di condanna avanzata alla Procura è di 4 anni in detenzione. Vediamo. Ci fu la violenza sessuale a danno di una ragazza, 23enne, affetta da un ritardo cognitivo. Così ha concluso l'EPM Luigi Lovalvo che ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per il 29enne accusato di aver abusato della giovane. I fatti si sarebbero verificati in una zona assai isolata a Montelungo nei pressi della spiaggia. Sembra che l'imputato fosse riuscito a condurre la ragazza in quell'area in sella ad uno scooter. Già si conoscevano. Lei aveva accettato il passaggio ma pare fosse convinta di poter trascorrere alcune ore con la famiglia del 29enne che invece ne avrebbe approfittato per imporle un rapporto sessuale. I primi particolari la ragazza li riferì ai medici del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ha sempre confermato anche nel corso dell'incidente probatorio. Venne avviata l'indagine affidata ai poliziotti del commissariato. Lui, difesso dall'avvocato la ramata, ha invece più volte spiegato che si tratto di un rapporto consenziente senza alcuna imposizione. Per l'accusa invece ci fu una costrizione. La giovane parte civile, nel giudizio, assistita dall'avvocato Rosario Prudenti, a sua volta certo nell'individuare responsabilità in capo al ragazzo che viene giudicato con il rito abbreviato. Ad inizio luglio toccherà la difesa concludere e verrà emessa la decisione. Cambiamo argomento. Due giorni di confronto e testimonianze per ricordare i caduti nella strage di Capace e far tesoro dei loro insegnamenti sono stati organizzati all'istituto comprensivo Giovanni Verga in collaborazione con il Rotary Club. In occasione del 31esimo anniversario della strage, in cui perse la vita il giudice Falcone insieme alla moglie e le genti della scorta, l'artista gelese Roberto Collodoro ha inaugurato un murales sul muro perimetrale della scuola guidata da Vivian Aldisio. Vediamo. In occasione del 31esimo anniversario della strage di Capace, l'istituto comprensivo Giovanni Verga ha organizzato due giorni per celebrare i giudici Falcone e Borsellino, esempio di impegno, verità e giustizia, in collaborazione con il Rotary Club presieduto da Valentino Granvillano e il patrocinio del Comune di Gela. È una giornata molto importante per tutto il nostro paese, è importante ancora di più per noi perché veramente siamo onorati e contenti di aver portato a termine questo grande progetto di rete. Il murales è l'emblema, raffigura e rappresenta i nostri grandi patrioti. Diciamo che Falcone e Borsellino rappresentano e sono l'emblema della giustizia, del coraggio e della verità. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo murale perché rappresentano dei grandi uomini che con elevato coraggio sono sempre andati alla ricerca della verità e ci hanno educati alla ricerca della verità che poi è un po' il messaggio che la scuola vuole dare agli stessi alunni. Un momento molto importante e molto ben organizzato che fa memoria, che è la cosa più importante sempre. Anche il nostro Presidente l'ha detto oggi nelle varie interviste e in tutte quelle che sono state le manifestazioni rappresentate dalle TV nazionali. Devo dire che è sempre gratificante essere qui ed essere in mezzo ai ragazzi. Gela continua ad essere presente per poter riacquistare dignità al 100%. Gli studenti della scuola hanno partecipato attivamente all'evento attraverso l'animazione musicale a cura dell'orchestra eseguendo dei brani che hanno studiato nel corso dell'anno scolastico. Alla tavola rotonda organizzata nel giardino della scuola ha partecipato anche Don Filippo Celona, parroco della parrocchia Santa Lucia. Oggi è un giorno importante non solo per il quartiere, per la scuola ma per tutta quanta la nostra nazione e per coloro che lottano e continuano a lottare per la legalità. Oggi ricordiamo proprio la memoria della strage di Capaci con tutto quello che è successo e che è scaturito proprio a partire da quella strage. Quindi ricordare certi eventi ci aiuta a non dimenticare e a formare anche le nuove generazioni affinché alcune cose non possano più accadere. Ieri sera è stato inaugurato anche il murales realizzato dall'artista gelese Roberto Collodoro sul muro perimetrale dell'istituto intitolato Coraggio e Verità. Non ero molto avverso a fare questi due personaggi perché potrebbero diventare quasi ridondanti ogni volta però visto il contesto, vista la scuola e visto anche la zona dove ci troviamo era giusto farlo. È sempre divertente all'inizio quando la gente ti dice che i segni che fai all'inizio ah ma questo è Romurales? Invece poi alla fine si compone e siamo tutti contenti. La serata evento si è conclusa con la suggestiva performance di Stefania Bruno l'artista di origini ennesi nota in tutta Italia per la sand art l'uso della sabbia per ricreare e dare respiro alle storie che mutano secondo il volere dell'artista. La straordinaria eleganza dei ritmi artistici accompagnata da musica emozionale scuote granelli di sabbia ricreando forme istantanee che sembrano avere un'anima. E ieri sera con la voce narrante del fratello Vincenzo ha descritto come in un libro le storie di Falcone e Borsellino che hanno lasciato il pubblico assiepato dalla chiesa Santa Lucia senza parole. La politica è stata presente solo alla seduta e insediamento dopo essere subentrato all'altra esponente di Fratelli Italia Sandra Bennici dimessasi lo scorso anno. Il consigliere Giuseppe Caruso a sua volta va verso l'addio a Palazzo di Città. Non ha mai partecipato a riunioni sedute per ragioni di lavoro che l'hanno portato fuori dalla Sicilia a eccezione per l'appunto di quella di insediamento che vediamo tra l'altro nell'immagine a corredo. Avrebbe trasmesso i primi atti per le dimissioni alla presidenza del Consiglio Comunale sono al vaglio adesso del presidente Salvatore Sammito. Se ufficializzate le sue dimissioni aprirebbero le porte dell'assise civica all'avvocato Ignazio Raniolo, a sua volta tra i dirigenti locali di Fratelli d'Italia. I milaniani potrebbero così contare su un quarto componente del gruppo consigliare oltre al capogruppo Vincenzo Casciana, Salvatore Scerra e Pierpaolo Grisanti. Potrebbe incidere parecchio sul borsino della sfiducia con un voto in più probabilmente certo a favore della fine anticipata dell'esperienza amministrativa dell'avvocato greco. Parliamo di Ghelas al momento a causa delle difficoltà finanziarie del municipio allo stretto monitoraggio della Corte dei Conti non ci sono le condizioni per attivare il contratto pluriennale per la multiservizi. Ieri è emerso nel corso di un'audizione in Commissione Sviluppo Economico e Servizio. Il futuro più immediato di Ghelas passerà quasi sicuramente da una nuova proroga tecnica quella in atto a scadenza a fine giugno. Non ci sono le condizioni in questa fase per porre le basi di un contratto pluriennale che invece è l'obiettivo prioritario del manager della municipalizzata, l'ingegnere Pietro Inferrera. Ieri queste conclusioni sono emerse dall'audizione del dirigente Mario Picone che è stato sentito dalla Commissione Consigliare Sviluppo Economico. Il presidente Rosario Faraci e gli altri componenti, Luigi Diddio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso più volte hanno focalizzato l'attenzione sullo stato della società in house. La crisi d'inizio anno è stata superata con lo sblocco delle somme dovute dal comune. C'è piena garanzia, copertura degli stipendi e degli oneri previdenziali, però così come ha riferito il dirigente in questa fase non pare praticabile alcuna strada che possa condurre ad un contratto pluriennale. L'amministratore Inferrera ha già fatto sapere che attende segnali dal sindaco e dagli assessori. Quindi probabilmente l'unico che arriverà sarà per una nuova proroga. Nonostante ci sono state variazioni rispetto ai servizi, Gheras infatti ha perso quello delle strisce blu affidato ad una società privata. Lo scorso anno proprio la Commissione Sviluppo Economico aveva avanzato una complessiva proposta di rilancio dell'azienda che trovò sponde politiche all'assiste civica. Le difficoltà finanziarie del municipio in attesa del rendiconto 2021 per ora sono un cancello invalicabile. Ipotizzare un nuovo contratto a stretto giro non pare affatto plausibile. Il dirigente ha comunque invitato la Commissione a valutare la situazione complessiva anche sentendo l'amministratore Inferrera. A questo punto non è da escludere che il manager possa essere convocato. I consiglieri della Commissione stanno inoltre vagliando l'opzione di un'interrogazione sul caso Ghelas da far pervenire all'assiste civica per avere una risposta dall'amministrazione. Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 8 nella zona di via Butera. Per i soccorsi però è stato necessario attendere oltre mezz'ora. L'ambulanza è arrivata dalla vicina Niscemi. Ancora una volta è chiara l'assenza di una copertura idonea in città per un servizio fondamentale per i cittadini. Un altro servizio prima di chiudere. Le malattie sessualmente trasmissibili sono state spiegate ieri mattina da una delegazione ai professionisti e sociali del Rotary Club agli studenti del Rico Fermi. Scopo dell'incontro? Sdoganare i tabù che riguardano questo genere di malattie creando così una consapevolezza nelle nuove generazioni che quasi sempre questi virus si possono curare e che è possibile tra l'altro avere anche una vita normale. Sdoganare i tabù sulle malattie sessualmente trasmissibili formando e informando le nuove generazioni è l'obiettivo fondamentale che si è posto il Rotary Club di Gela che ha incontrato gli studenti del Plessio Rico Fermi di Contrada Marchitello. Un focus informativo di prevenzione per trattare anche quelle tematiche a volte non conosciute e spesso anche non gestite per motivazioni di tabù e che comunque speriamo insomma di riuscire a sfatare, ad informare tramite questi focus informativi. Andiamo a sensibilizzare i nostri studenti in collaborazione con il Rotary Club di sezione di Gela nell'ambito del progetto educazione alla salute sulle malattie sessualmente trasmissibili in modo tale da poter informare gli studenti, i giovani su un fenomeno molto diffuso in modo tale da poter prevenire e poterli anche sensibilizzare ad un uso di stili di vita corretti. Un incontro diverso, dinamico ed interattivo che ha permesso agli studenti di porgere delle domande nell'anonimato alle figure professionali presenti. Pensi che sia più facile poter parlare di questi argomenti in modo anonimo? Sì, assolutamente sì. Perché? Perché il fattore che non si sape comunque chi ha fatto la domanda scaturisce comunque più sicurezza nel poter comunque appunto porre un quesito e avere comunque anche attenzione diciamo nell'ascolto ecco. L'incontro di oggi è risposta ad alcune tue domande? Sì, a molte devo dire, che pensavo addirittura di non avere. Il nostro compito è quello di instillare la curiosità ad approfondire e soprattutto, oltre che una descrizione, un quadro generale delle patologie, soprattutto far conoscere la possibilità della vaccinazione che per molti, molte di queste patologie, soprattutto per l'HPV, cioè il papilloma venus, determina nelle femminucce il famigerato carcinoma del collo dell'utero e in tutti e due i sessi il carcinoma della lingua. Che incidenza hanno queste malattie nel nostro territorio? Io soprattutto sono un medico di famiglia e sono anche ginecologo e devo dire che si osservano tante volte delle infezioni a livello dei genitali. A volte sono delle infezioni banali che possono essere curate facilmente ma dobbiamo stare più attenti a quelle forme che magari potrebbero sfuggire e quindi i ragazzi devono essere informati ed è importante che lo siano per evitare problemi più seri. Le malattie sessualmente trasmissibili non provocano danni solo a livello fisico. È stato infatti riscontrato come entri in gioco anche una componente psicologica quando vengono contratti questi virus. Vivere la propria sessualità quando ci sono soprattutto alcune malattie come per esempio l'HV, l'epatite C o anche l'HPV sicuramente diventa un po' più difficile da gestire proprio perché nel rapporto con l'altro la paura anche che si innesta da parte del partner di poter contrarre una malattia è molto forte. Ovviamente sapere che ci sono ovviamente dei modi per cui avere dei rapporti sessuali, per cui avere una vita comunque sessuale in maniera sicura, questo aiuta a livello psicologico. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, siamo in chiusura. Naturalmente se volete approfondire tutte le notizie le trovate sul sito www.quotidianodigela.it se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate come al solito sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.